Ciao amici sono Ian, siamo qua con lo zettone italiano L'ultime due placement e poi ricomincieremo a fare i game a 3 a 3 Ne ho persa una e ne ho vinte 7 Se ne vinco altre due in teoria dovremmo iniziare da Silver 4 a circa bo, tanto l'EP Bando alle ciance vediamo il primo game Allora eccoci qua, primo game sono riuscito a prendere Zed Però c'è un problema Sono contro Malzar Ed è un grandissimo counter, tra l'altro c'è anche l'exhaust Quindi questo potrebbe essere un bel game perché vi insegnerò come non farvi devastare da sto cazzo i champion da Nabi Che tra l'altro io uso molto spesso perché è molto forte e mi diverte Oddio, addio, non darle a chi la Malzar Il nostro amico Graves ha già pensato di iniziare il game in modo complicato Amici ve ne andate? Lucian, scappa Non hai il Black Shield, vero? No Va bene, ok Allora per questo particolare matchup ho cambiato le rune secondarie Non ho messo il demolish visto che molto difficilmente io riuscirò a pushare Malzar Malzar è un campione che è nato per pushare E avremo parecchie difficoltà accanto a Nabi Quindi ho messo trionfo e colpo di grazia Giusto per avere un po' più di danno In caso riuscissi a tardare con lui Ma c'è anche sempre il solito Non possiamo fare un cazzo L'unico modo che abbiamo per vincere è togligli lo scudo e poi prendi la combo E prima del 6 è fattibile, dopo il 6 inizia a essere tosto Lui c'è pure l'exhaust quindi la cosa si complicherà ulteriormente Quindi molto probabilmente quello che farò in tutto il game sarà pushare, romare, pushare, romare E continuiamo così all'infinito Una volta arrivati al 3 possiamo iniziare a far qualcosina Ma non ti devi più, ho anche sbagliato perché ce l'ho troppi umili Ah! Che male! Ricordatevi, i cagnolini di Malzar sono quelli che gli fanno il danno Cioè i cagnolini I Voidwing si chiamano, le sue bestioline Quindi uccidetegliele sempre prima che possano spawnare tutte Perché sono quelle che fanno il danno di Malzar Anche quelle Soprattutto quelle Tenete sempre lo scudo di Malzar giù così siete sempre pronti al trade Ah lui ha 425 HP C'ha l'exhaust ma in teoria dovrà riuscire a ucciderlo Dipende come la gioco Dipende come se la gioca lui Ancora lo scudo giù per un po' Almeno 10 secondi Vediamo ora Ok Uaaaaah Potevo farmi ignite Vabbè buono ugualmente perché Anche se non l'ho ucciso L'ho mandato a casa Il TP non ce l'ha Si perde tutta questa wave Ed è tanta roba Io posso anche andare ad aiutare Infatti quello che farò Voglio aiutare il sino a Grace Grace vieni qui Ti piaci di farti uccidere Eh si parla uccidere Non parti uccidere Ma maledetto Ora se lo incorro per nulla Che palle Ehi Senti vaffanculo Di più non dosso di qualunque cosa Ma voglio il mio shutdown Allora Qua continuiamo la faida Contro Kindred Se magari viene Ah corre Sto tizio Corre un sacco Uh vai 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 Tizio E' buono eh Possiamo ucciderlo Ah peccato Questo è morto Ok No Ho avuto paura Perché aveva subito Aveva la ultimate già E quindi non sono rimasto Ad attaccarlo Va bene comunque Perché ho Ho usato la ultimate Per il suo flash E' buona così Speravo di baitargli L'exhaust Cosa che non è successa Vai che muore Vai che muore Perfetto Sto giocando su Kindred Po perché contro Malzar Non posso fare nulla Quindi è molto meglio Che io mandi Behind il jungle nemico Piuttosto che concentrarmi Sul Su un mid lane Che non ammazzerò Non mai Ma che comunque È difficile da ammazzare Ancora non sto romando Bot lane Perché per ora Sto trovando opportunità Di kill in jungle Ah Aia Ok Lui lasciamolo stare Kindred sicuramente Verrà a dimenticarsi Tra poco Io sto pensando Di farmi subito Le Mercury Così Riduco un po' Il loro di Cicina Che ne abbiano tantissime Più meno La Kindred lo vedo ancora Sta pensando Andando al suo blu Potrebbe darlo a Malzar Non posso entrare in giungla Perché non ho la ultimate Kindred È bello Sgusciante Come una saponetta Però Allora vado da Kled Anche se non è un Vai ulta Ulta Sion vai Sion è un ulta Bravo Ok va bene lo stesso Devi fare qualcosa però Ok Perfetto Ultiamolo Mori Oh Meno male Meno male Ce la fai? Vai Sion Bravo bravo Attenzione che sta arrivando Malzar Io me la devo andare La kill l'ho fatta Ho Ho fatto bene andare top lane Perché Kled è veramente Tanti in vantaggio Thanks You're welcome Che carino Grazie Aspettate un po' ragazzi Qua facciamo Qua facciamo l'inghippo E qua facciamo l'inghippo Aspettate un po' Aspettate un po' Che secondo me ci casca Che secondo me ci casca Sto prendendo del tempo eh Ma secondo me ci casca Ma porca trovi Ma sei serio L'Electra cute Cazzo Cosa volevo fare Pensavo che Avrebbe continuato la sua giungla Andando qui E io l'avrei one shot up Invece Allora Io l'ho completata Eh Dovrò tornare top lane Io l'ho completata Ora Devo pensare Se farmi subito la quick silver Che mi protegge Dall'R di Malzar O se fare altro Ma intanto Andiamo da club Che tanto lui sta pushando Come un matto Non se ne accorge Per tornare i CS mid Ma voglio Voglio continuare a A dare la mia presenza globale Sulla mappa Che è quella Che mi rende forte Vai Questo more L'ho col flash Ok Ottimo Non mi interessa Sarà meglio Che l'abbia presa lui Io sono già fidato Almeno Sion si Ripende un po' Sion get tabby Thanks king Thanks king Se Sion si mette le tabby Riuscirà a ridurre parecchio Il danno O il dosso Che bello vedere Della gente Gentile Ma la trovo nel mio Io non la trovo Giù 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 Ma ci sta Ce la fai Vengo a darti la mano Vengo a darti la mano Meglio di no Ottimo Lui c'ha l'exhaust Ragazzi non lo ammazzerò mai Cioè non ci parlo neanche Come vedete sto continuando a romare Perché Tanto è inutile puntare su un malzar Che guarda che cazzo c'ha C'ha l'exhaust C'ha Già il proverso del cercatore Meglio andare Meglio continuare a romare Sempre e comunque Sempre e comunque Perché guardate quante occasioni Ghiotte Guardate quante occasioni Ghiotte Ghiotte ma non troppo Tornando a top lane Oh cazzo Voglio cresciare Eh qua non potevo fare nulla Ma non cresciami faccio C'era il malzar con la R Quindi non avrei fatto nulla Eh mi serve il quest'estra Facciamo subito il quest'estra Che mi serve O devo proteggermi da malzar Non volevo morire Guardate ho anche un shutdown Ma non potevo farci niente Non potevo farci assolutamente nulla Vai G No Lucian Ma che fa Ma che fa questa Oddio Sono completamente pazzi Completamente fuori di testa Ma non sono full ID No quasi Più o meno Sta kinder non si è persa l'anima Manco per il cazzo Io pensavo di si Prendola con il culo Un po' di culo Sì l'ho preso L'ha rubato Che brutto smite Che ha fatto kinder Ok Ciao Jinx No 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 vabbè Non ci credo Cioè sul serio Sul serio Sopra questo con 2 HP Ah che sfiga Ragazzi fate qualcosa voi Almeno voi Vi prego Vendicatemi Vendicatemi Non neanche Ah che sfiga Bronco la W Doppi Lato la resistenza giusta Per non morire dalla mia R Andiamo 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 a splittar Sperando che loro non muoeran Ah che falle Quanto è veloce voi Ok mi sono salvato In teoria Amici Mi stanno seguendo tutti Fate qualcosa Amici Sto doggendo di tutto Pure l'exhaust Ok ho preso l'exhaust Cosa sta facendo Ok bravo 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 Poco bravo Non posso far nulla Non si Nono C'è anche Malzar Ma lui non se ne sta andando via Questo è un muro Bisogna un drago doppio Che palle che sei C'è un tizio C'è un tizio cattivo Che facciamo con il tizio cattivo Se ne è andato Se ne è andato Forse Ora mi ulta da qua Guarda Ok non c'è più Oh ma l'ho giocato Pestanza bene Si continua a splittare In questo modo E loro si fanno beatare Come dei polli Potrebbe essere buono Kindad è morto Vieni Grace Facciamoci sto inferno Che è troppo importante No 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 Ragazzi infernale Infernale Tutti Tutti Buono E questo obiettivo Non fight Don't fight Non fight Ciao Ciao Io ci vengo Arranger Mi do Non fight Tag Ecco Siete morti tutti Siete felici Siete felici Guarda Quei drommo Sto a farmi baron Non credo Sto a riuscire Ops Ops Cosa stai Vabbè Double kill Va bene Quel flash non aveva senso Ma almeno fa double kill Pranda Sono io che devo splittare Non tu Che cazzo Nooo Ah stronzo Questa è la mia energia Buono 3 per 2 Dai GG 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 Nice Morta Perfetto Amici Sparate a kinder Qualcuno spari a kinder Per favore C'è qualcuno Che è il milione Che non sto facendo danno Mi sa Ok Buono 3 per 1 4 per 1 Ottimo Se uccidiamo tizio Facciamo il baron E no E no Scappa Ma io dove sono Ah ma sono dietro Credevo Ok fa niente Fa niente Drago 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 Doppio drago Molto bene C'ho la legend knight C'ho la legend knight Ok Guarda ci mettiamo una guardian angel Let's drop All Ah Hanno fatto il baron Bene Questa cosa non me l'aspettavo per niente Scappa Morgana scappa E qua finisce male Ehm Non ho capito Non ho capito un cazzo Ho ultato Ho ultato quello con la zona tra l'altro E non ho ultato Jinx Ah non dovevo andarci Io non ho capito come hanno fatto il baron Nessuno di noi ha visto Nessuno di noi ha visto che stavano andando al baron Almeno io Non me l'aspettavo Non abbiamo perso così Lucia fai qualcosa Ok Ok No non mi rifiuto di perdere così Ok Ok Andata bene Bronze è salvato con 2 HP Non so manco io Non so manco lui Sacco Buono 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 così Bella quella come Morgana Che drago c'è? Un altro Infernal Oh ricimale Ok c'è l'Infernal Il jungle è morto Abbiamo 3 Infernal Io mi rifiuto di perdere contro Infernal Ok Ragazzi io mi rifiuto Ward Baron Please Please Wardate il Baron Ehi Quello è il mio blu Aiuto 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 Help me Che faccio da carriare da solo Abbiamo anche 4 cazzo di Infernal Come facciamo a perdere? Ah ma questo cazzo exhaust Mamma mia Zed can do this alone No non posso giocare da solo Ho bisogno di una mano Non posso vincere da solo Ho bisogno che voi mi venite al cazzo di Baron Perché se no abbiamo perso E lui si è un babot Oh Mamma mia Tu mangi sassi a colazione Conte Ward Basta Ah 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 Non fai Ah guardatemi Datemi la forza Di far quel coro Mola Non funziona Vabbè almeno sono morti in 3 Me ne andate Attaccate questo tizio Ma cosa c'ha lei Oh mio dio Ma è full AP Ecco perché non riesce a supportare un cazzo Dimmi che dove è il nostro redemption Eeeh Dovevo fare questo Io non posso Ormai sono arrivato al limite Non ho più goal da fare Sono dentro alla ult Sì vabbè Ma mi ha ammazzato deep Ok 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 Uschia Quest'è Non ce l'hai? Ok ce l'ha Ragà ragà Ma perché? No vabbè Ma che scusate Sono pazzo All'ins otra Nivés Quasi Crap No Non c'è focus In sto team Tutti fucusero me perché giustamente devo andarci di faccia visto che nessuno ingaggia giusto che sei ancora l'ultimo in cassa oh oh madonna che male Morgana ok barone 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 io t'ammasso probabilmente sei pronto sto cazzo ti è ammazzato probabilmente che sei in supporto ti è ammazzato con me ma morire pure tu no devi morire no no sto cazzo tu muori tu muori tu muori e noi facciamo il barone ok barone barone raga barone facciamo il barone su in fretta io forse riesco a ammazzare Kindle per la Garden Angel ce l'ho fate quel cacchio di cosa che Kindle sa qua c'è eh cosa perdonami ma che male era quello di Kindle ormai è normale ma l'ho ammazzato vaffanculo no ho sbagliato non devo farlo però non pensavo mi avrebbe fatto così tanto danno piccato pensavo di one shotarlo prima invece no dai ho sbagliato io via Guardian Angel mettiamo no raga non morite no non morite spara non si spara non si spara c'hai due pistole così ma fa Morgana ma fa Morgana brava Morgana sei morto ma fa niente l'hai fatto per il tuo per il tuo no non posso dire ah no posso dire oh se giudite un che clown fiesta abbiamo bisogno di draco infernale eh si infernale di draco di di vecchio vecchio drago go 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 elder non capisco nulla non sto capendo niente no 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 sono morto chi l'ha fatto draco abbiamo preso noi meno male abbiamo vinto forse 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 maybe you command whoopee no ricollate fiesta lol eh lo so fiesta lol guarda 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 la cosa che muore ah muori finita amici finite dai potete farcela no non avete non avete ah il limitore il limitore inhib and back vai spara Luziano spara e ora basta andate via pian pian andate via piano piano regroup and win e ci leviamo dal cazzo sto game non ce la faccio più stiamo 47 e 47 abbiamo fatto 80 7 7 14 94 kill in 45 minuti io non so nemmeno come sia possibile questa cosa in teoria non dovrebbe essere possibile oppure mi aspettate wait wait Lucian wait do fastidio do fastidio do fastidio do molto fastidio sono fastidioso come una mosca come una zanzara come le zanzare di Novara è this my quadra kill no solo triple kill no è mio è mio abbiamo vinto amici non ci credo non ci voglio credo alla fine Morgana full AP è stata è stata utile io l'avevo flammata level up pure vai 41 non manca non c'è più un capsule e oppla silver 4 17 LP ok e abbiamo ancora un game da fare grazie degli honor amici le mie previsioni sono se vinco anche il prossimo arriverò a 57 57 LP 57 vediamoli insieme allora secondo e ultimo game sono sempre Zed ho cambiato le rune ho rimesso quelle del demolish del bonplay però c'ho una sorpresina contro c'ho contro Atrax e Atrax è un palo nel deretano e tra l'altro il nostro master di italiano quindi prevedo cose molto divertenti ciao maestro maestro I perché Giggs è rimasta dietro cosa stiamo facendo ah Lulu di qua di qua ok bravo vai vai boom bene abbiamo una kill ora potrebbe essere un pelo più meno difficile contro Atrax ma lo sarò lo stesso va bene questo tizio ha 60 di armor a livello 1 io li tolgo con la Q niente perché non l'ho beccato ma quando li ehi 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 mi lasci stare quando lo colpirò piangerò perché so già che non li toglierò niente ah bene vabbè ok perfetto allora lei rimpiace contro di lui sia che si metta questo schifo di schifo sia che si metta cose normali tipo Doran Blade è un botto difficile possiamo solamente ingaggiarlo quando avrà sprecato tutte le Q altrimenti non possiamo minimamente toccarlo ok guardate i danni io non ne ho tolto nulla e lui mi ha smezzato la vita quindi insomma avete capito come funziona eh sì arrivo amico ma perché ce la fai da solo mi sa eh che devo fare ero messo lì va bene non ci perdiamo d'animo non ci perdiamo d'animo sappiamo già che non avremo jungler quindi niente io provo a a fare quello che faccio sempre quando ho dei matchup veramente difficili spero nel team ma stribole gankar ma non andrà bene non andrà bene no sì sì no sei sì ok non è no mollami 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 ok eh sto per morire sto per morire sto per morire no ok non vuoi cazzo come si è salvato quell'atrox ho messo una q perché l'ho tirata dritta dritta per dritta mannaggia a me peccato ho sbagliato io qua era buona la gun mi ha perso il cannone però questa cosa è molto buona che ti sei fatto spada spada è una pink va bene vai atrox a noi due avrai pure 69 di armor mannaggia a tua sorella ma io ti ammazzerò prima o poi non so come mi serve l'ignite per ammazzarli mi serve l'ignite ok buon danno mi serve l'ignite e mi serve che lui sprechi le sue cose mi serve la ultima soprattutto cosa che non ho ora potrei anche essere in grado di ucciderlo devo solamente giocarmela bene vai prendiamo un'altra placca di torre e penso che ehi masterie tu dovresti fare questo perché il jungle è la top lane ok prendiamo torre masterie ii drake che si ha messo lui il phage che le ho tolto nulla nulla per il bomb plate vai mi va bene lui l'ho anche ridotto in fin di vita buona così dovremmo fare il drake masterie secondo me masterie quando capirà che deve fare il drake è l'anno del mai buona andiamo back e prendiamoci penso la draktar perché ora ho possibilità di killare lui è saputo anche war perché c'è stato già dei tabi ii vv is bot is top let's do drake ma no quante volte le dovrò scrivere fatti il drago te prego più eh ok forse forse lo stiamo facendo allora pushiamo e vado a dargli una mano pusho in fretta e facciamo sto cazzo di drago masterie non ha capito nulla nulla sta prendendo tempo a fare georgio devo aiutarlo vatras non lo so dove sia ok ora lo sto facendo forse guardo qua ahhh fai sto drago di merda no questo sta male questo sta male questo sta male in testa questo sta male in testa non me lo smetto pure no non ci credo ahhh adesso sto ammalato proprio forse vinciamo lo stesso eumo botlane per favore venite qua venite qua com com venite bestie non vuole venire almeno lo facciamo noi io non voglio regalare un break a questa mandria di gente che fa troppi danni ce la facciamo senza c'è lo rubino ok guppy madonna che fatica che fatica cioè l'hai visto che è andato al blu invece che andare è proprio meno male che aveva warm che stupido no cavolo questo è un giacinico vabbò io sono fidatissimo posso carriare ma starei un pazzo e non so giocare quindi vai master 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 tanto muore ciao buono è proprio che urgo sta prendo un po' il pene da da questo reanecto che è arrivato già nella seconda base ok urgo che ha botlane ma continuo io se riesco a prendere tutta la torre tanta roba vai 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 anche perché è il primo mattone quindi mi dò un sacco di soldi arrivo 2000 gold ottimo perfetto a posto con questi soldini le scarpe le lasciamo a fanculo perché non ci servono anzi in realtà mi servivano le ninja tabby con questo team ma le metterò poi adesso voglio continuare a a macinare ci serve la yomu yomu pink questo vai devo trattare yomu e siamo belli grossi ora è il tempo di romare care bot allora vediamo andare giù toppling non ci andrò mai da correre anecto anche se potrei prenderlo su a shutdown ma non mi interessa warwick è ancora su ok possiamo arrivare we can dive notta a posto ho preso anche l'ignite double kill bot mastery se se dio vuole mi protegge la midline forse quella era l'andato ovviamente ma noi abbiamo usato la torre bot quindi buona fermarlo ok non l'ho fermato ma l'abbiamo devastato quindi buona così apri l'occhietto ok non ha neanche distrutto no non ha neanche distrutto la torre ottimo era lo sprecato questo è morto la lascio la kill buona così andiamo dritti dritti anzi no non vado dritto ho l'air tra poco flankiamo andiamo da l'hulu che non se lo aspetterà mai come sta morendo xerath come sta morendo xerath sono leggendario oh quella l'hulu lasciamo stare aaaaaaah aaaaaah aaaah feathers fly sa che non devi andare via da l'hulu no bravo urgot pensaci tu è tritala ho usato un threat dannato ma vabbè fa niente ve lo posso permettere sono 9-0 dai 9-0-3 quindi devo anche prendere degli assist non è che non sto facendo niente a livello di team io rimango nei paraggi ma qua penso che non dico sia finito aia aia non voglio morire non voglio morire si sono morto guarda uno shot down di 1000 gold wow sorry ah già ma sta lì stavo accendo le sega intanto vabbè non il black cleaver va non dovevo stare lì probabilmente oh ma tu hai finito di fare vuoi fare qualcosa potremmo fare oddio ok tu muori ottimo buono 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 ho giocato benissimo ottimo mamma mia che bait che bait che bait bravissimi tutti bravissimi tutti non muoio vero ok perfetto facciamoci sta torre il bar ovviamente non si può fare back back all back all ragazzi non potete back io me ne vado black cleaver ce l'abbiamo si se mi diamo spadina allora masterista continuando a farmare la giungla perchè a me piace va bene ognuno ha i suoi gusti io intanto mi ammazzo atrox e no 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 non ho avuto a caso atrox è 2.5 e c'è pure lo stop non so perchè potremmo andare a fare questo comunque we can baron cioè proprio lì easy potremmo fare il barone e finire sto gioco sto gioco sto game non vi piace la mia idea ma streame mi ha ascoltato stranamente però ci serve jinx e tu non puoi split pushare sei in la sua di carry jinx non puoi split pushare ok non penso che possiamo iniziarlo wait abbiamo bisogno della di carry non puoi iniziarlo ma che problemi hai jinx si fa il drago ma secondo me lo smiterà secondo me no secondo me non lo smiterà adesso arriva arriva il jungle nemico volante e lo smiterà lui oh manomale guardo wupi wupi bravo quando bisogna dirgli bravo è bravo eh per carità boff le kiwi ce l'abbiamo ma c'è matare talità in teoria adesso se io mi metto a splitare bot lane chiedo dritto dovrei uscire anche kill no beh lui no lui no però se me lo gioco bene posso fare qualcosa andiamo bot non penso che mi lasciano splitare penso che mi seguiranno tutti quanti oddio quella lulu no no stanno fightando ah ok ok a posto jinx è enorme mia jinx è enorme 5-2 a posto io in realtà vabbè vabbè buono lo stesso vai jinx io e te solo io e te vinceremo questo game me and you solamente io e te possiamo finirlo finiamolo tanto c'è solo lulu fa il culo il lulu tanto lì che non sta nemmeno difendendo ride lulu ride no ancora ovviamente dai muoviamoci prima che rimi la mandria ok GG non abbiamo mastery perché se l'ha meritato è stato il migliore giocatore della nostra squadra belle GG shot calling e abbiamo finito le nostre placement ci hanno piazzato silver 4 60 lp quindi ufficialmente la ranked 2 diamond inizierà da questo traguardo e niente amici questo è quanto la prossima ranked 2 diamond avrete lunedì o martedì più o meno verso quei giorni là io vi ricordo sempre di seguire le mie avventure su twitch dalle 9 di mattina fino alle 13.30 barra 14 sto facendo la challenge di tutti i campioni dalla Z venite a trovarmi lascio il link in descrizione e ora vi do la buonanotte per me che sono le 11 e buon pomeriggio per voi ciao buonanotte